musica 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 lo sapevi? su twitch praticamente un senatore americano ha proposto il carcere per chi infrange copyright su twitch non ti immagini? ah se per questo carcerano te non me io non ho nulla a che fare il canale è tuo devi vedere la mia faccia è live bastardo la faccia che ho fatto io è live sei persa perchè non l'hai vista no che l'hai perchè che faccia hai fatto? ho fatto la faccia di quello che è rimasto da solo ci vuole la canzoncina ma che te devo di carcere non te mi chiami il canale è tuo si ma io ho il tuo nome il tuo nickname tu sei il rayar su carte di identità ti chiami il rayar quindi ti troverò non proprio almeno che mia madre non sia un po' stupida non penso mi chiami rayar non è una questione di tua mamma che deve essere stupida a darti il nome di solito il nome ce lo scegliamo prima di nascere nooo non penso funzioni così non credo arma la devi smettere però non mi contraddire non credo c'è vittoria non ne parlo più voglio essere nell'alto fronte io io ho scritto io ho scritto un pochettino svizzero sulla pancia di tua madre il nome che fai ho capito è crollata mezza fortezza eh hai visto crollare mezza fortezza eh funziona così ma perchè mi dice Don Targes questo qua si chiama Tanjanga God eccolo qui guarda c'ha un forno per cannone io voglio essere sparato la tua ragazza ci stava guardando quando abbiamo parlato di schermi no no non credo non ho sentito quello per lei cioè non lo so no no vabbè non si fa di questi problemi cioè non pensa che possa essere scambiato ma sono morto così ma che mica cadita un ponte e muori ma dove sei te? sono su B se mi avessi seguito no io non ti ho seguito stavolta sono andato a sfondare la porta ma stavolta vengo di nuovo io dai porto i miei arcieri che sono proprio la leva base quella proprio merdosa e dove sei su B? io ho mandato i miei contadini a morire poverini la sei proprio un essere spreggevole non si dice in gi no lo sapranno tutti guarda ti vedo lì che corri come un un pazzo fossennato ovviamente da grande condottiero ti metti alle spalle stai scappando via no sto andando su A se permetti non sto scappando ma vai che cavallo non c'è mai te e poi non si chiama scappare si chiama ritirata strategica vabbè sei lì davanti adesso no? io ho i miei arcieri li piazzo qui io vado vado ma tutti sono peccato la porca di quella maledetta eh non ti voglio dire chi è purtroppo provo a curarmi forza arcieri che so che il vostro danno praticamente è zero provateci non si capisce un ciucolo vabbè vai vai stai guarda io non mi ho io sono sembra su A eh ma i miei ragazzi hanno quasi finito le frecce grande vai vai che siamo riusciti a penetrare le mura dai che ha il nostro io però dovrei andare a prendiamo a te il santermo dai ok sai che prova a ferire il muro la porta no è dura la porta adesso che prende la rieta si si sta arrivando sa massa scrive vado via io e vincete sicuro ce l'ha buttata sa massa se riesco a fare almeno una morte sono sicuro di prendere almeno una A credo una B più c'è B più è buono già però ah dici di fare una kill no se riesco a morire di meno magari ah cioè muori sott'anno una volta dici ah è difficile morire sott'anno una volta ok stiamo per sfondare oh comunque sul ponte blade oh mi voglio mettere la mod quella del game of cronze voglio vedere che c'è è finita la campagna con gli aserai si io ho il fatto che l'ultima volta che ho provato la mod mi è buggato tutto prossima live ragazzi vorrei portare Rimuward che? Rimuward è uno strategico World of Warcraft l'hai mai provato? no neanch'io cioè era solo per sapere ma penso che non sia il mio genere i miei arcieri hanno finito le armi cioè le frecce guarda il World of Warhammer guarda il World of Warhammer c'è due serie in corso che ho abbandonato con bel po' ma voglio riprendere vabbè comunque abbiamo compagni che hanno delle unità dell'X ma guarda che le picche che stanno usando sono ieri 1 ieri 2 eh sì ma infatti stanno vedendo il Danimo raga ce l'hai tu il perk che ricarica la salute? oh mi ho fottuto questa chi questa chi questa chi questa chi dagli altri giocatori gliel'hai fregata certo stavano a picchi a loro sei arrivato io un pacco a spada no vabbè ma abbiamo trovato un bel team però per farlo giocare bene dai che è caduto dalle scale dai che sei mio ho fatto la prima kill dai che sono dietro di te dai dai su le scale allora ci sta una bella trappuccata se si mettono su un bel punto vicino arrivano da sinistra che arrivano da sinistra li vedi? si li vedo però io voglio provare a trappuccata arrivano 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 vediamo se li preghiamo sto provando spunto è con lo spunto abbastanza decente era cheался c'è chi è vicino non altro giallo non èОtivo non però si la Ci sono gli arcieri unit Attenti, i trabucchi, i trabucchi Via da lì Adesso provo ad andare a recuperare un po' di salute Madonna Ma sono i tuoi trabucchi? Si che sono i miei Madonna Andiamo a prendere C? Su C non c'è nessuno Non si che c'è gente No, no, riesci a trabuccare Allora, riesci a trabuccare Dovrebbero essere trabuccabili No, non ce la faccio Sono tutti i loro eh Cavolo io dovevo prendere Le truppe, anzi sono rimasto senza truppe io Yes Close order Close order For close order For close order As you command As you command For close order Defend yourself Arrivano Farmo Stiamo vendendo C eh Si si, io ho la manforte sul lato dì Ok non sa che si ritirano ma no confuso perchè non riesco a fare ormai non riesce a fare la casa metterti la cavalleria è ora che ho tolta la cavalleria si o meno per gli arcieri capito messi gli arcieri per tutto la cavalleria poi ci poteva stare una bella li attaccavi da dietro ci stava la prossima li inserisco sul mio canale youtube praticamente congueross è diventato il secondo gioco più seguito dopo barnello quindi dopo questa live recuperiamo un po' di materiale da portare sul canale vinta samasa sei andata via te è tornata la fortuna però sono arrivato ultimo cioè pur uccidendo un lord di immagini vabbè te te la sei giocata bene però comunque sempre in grado miti danno dai non l'ho capito non l'ho capita sta cosa samasa mi ha mandato cattivo ma cesar non è difficile che vado a portare adesso warband anche perchè sarei da solo adesso abbiamo il nostro warband si mountain blade cioè o barnello vado a giocare warband di 15 anni fa perchè ci sono diverse mod molto più strutturate rispetto a barne lord barne lord ancora eh vabbè barne lord è riuscito quest'anno è un giovane rispetto eh punto tu sai cosa ne pensi di rimu world invece ti piacciono giochi strategici come rimu world abbiamo due punti li metto sulla forza io ancora praticamente ho soltanto l'arco verde poi tutto il resto ce l'ho blu come equipaggiamento però dovrei dovrei andare a craftare un po' di oggetti importanti cesar non l'ha mai visto eh lo vedrai sul mio canale allora qui su twitch faremo una bella live su quello quando dici te fai partire il countdown si si dai ce ne facciamo un'altra dai e per oggi ce riposiamo un attimo eh sto a vedere una cosa si si io l'unica pecca che ha secondo me sto gioco è vabbè il normale fatto così proprio perché devi livellare con tanto tante ore di gioco devi farmare parecchio è che quando fai le spedizioni ne becchi troppo poco materiale quindi ad un certo punto ti conviene comprare ma quanti materiali te li danno loro col tempo ok i materiali li puoi fabbricare che ne so comprando le selle e riciclandole ti danno i materiali ferro tutto lastre un po di tutto quindi teoricamente viene meglio così eh no non le selle i pezzi del cavallo quelli che costano 400 bronzi si vabbè con i vari equipaggiamenti per il cavallo si ma dov'è? ma qui abbiamo un sacco di missioni ho tutte le missioni di petrol dove uscire fuori dalla mappa ma qua non posso passare conqueror spiace come gioco eh è molto bello si ma questo gioco beh te l'ho fatto scoprire l'altro ieri io praticamente ma immaginavo che sai che ci ho giocato cioè prima che me lo dice ci ho iniziato a giocare solo che da solo non capivo un cazzo del gioco l'ho disinstallato subito ma vedi tanti giochi sono così eh se all'inizio li giochi da solo io ad esempio gioco a quake ma se non gioco con una squadra mia io non ci riesco a giocare anche warzone se non lo giochi in team è tempo perso mi piace proprio come gioco cioè mi piace però è pesante come cioè pesa un po' di giga oh e Samasa ha riscattato il canto devo cantare la canzone a bianco natale a l'uno e mezza a l'uno e un quarto bianco natale ve la canta direttamente rega ma fai cagare peggio di me devo dirlo lo so ma non c'è bisogno che tu me lo dica faccio schifo però con gli mandi ti batto pure le manine lo faccio piano perché è tardi però dai reyar l'ha fatto per noi ragazzi è un valoroso membro una pratica c'è Cesare che ha riscattato di nuovo vuole l'inno sassone maledizione a me oddio quelle cazzo è l'inno sassone lui al solito vai su internet lo scarichi perché l'inno sassone non potevi fare l'inno d'italia che ne so magari l'inno russo sì ma anche magari forza Milan che squadra ti fai primi per poco amico vabbè sì ci permetti che dopo più 10 anni ho un momento di gloria no comunque io dico Roma vabbè l'avevo notato dal tuo cedo sai beh potevo di fare anche Lazio che ne sai no no sei più dalla lopacchiotta che dall'aquilotto sono livello 64 io io sono livello 35 ma tu c'hai un titolo? eh? c'hai un titolo? no? no sto chiedendo a te se hai qualcosa non hai un titolo no mi è pazzi ma sti cazzi di titoli ma te ad esempio nel ramo ricerche eh? nel ramo ricerche hai sviluppato qualcosa? tecnologie ricerche in che senso? dell'albero delle unità? no no sì praticamente c'è baracca c'è vabbè comunque un caserma ah tecnologie ah ma io non so se c'ho qualche punto da dargli sai ah no posso sbloccare? no non ho ancora sbloccato nulla interessante ti sblocco un certo di percentuali quando raccogli le risorse io invece il mio albero delle unità ho sbloccato la tapardieri e sono a un passo da sbloccare i black dragon pikemen i black dragon no io ho unità sto messo cioè se non riesco devo sbrigarmi a completare le zichilian sarebbe in quale le unit challenge della season ah ho capito e mi hanno detto che è assolutamente di massima importanza che io mi sblocchi le imperial pack guards perché sono sono fortissime sono OP ho capito io sto spedendo un po' di onore visto che ho un bordello che adesso praticamente è esaurito per sbloccarmi la prossima la prossima volta lo spear sergeant so forti questi qua anche se uomini d'arma vabbè so spettacolari invece i monastic knights i monastic che si so forti li nominano spesso in cilda che si so forti